ciao a tutti oggi giocheremo con l'isola vulcano per prima cosa ci serve la lava sì non è altro che slime rosso ma va benissimo per fare la lava ecco usiamo ancora un po fa proprio schifo guardate da Eeeh Grazie a tutti. 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 Oh no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.